Finalmente sono arrivato a casa di giuliano non mi aspettavo di essere invitato al suo party privato ma tant'è sono felice che mi Abbia invitato che ci fa questo maiale qui ok comunque la casa di giuliano è abbastanza di merda è un permesso Giuliano è qui la festa Benvenuto in casa mia Questa sarebbe casa tua giuliano hai un problema di livellamento del pavimento e agli degli strani amici comunque Vai Eren inseriti pure sul letto questo letto di terra va bene ma non sarà un po' buia questa casa No Eren abbiamo una finestra qui sopra più che una finestra è un buco nel soffitto questo giuliano Comunque se vuoi serviti pure prendendo da bere ma questa tazza è fatta di terra giuliano il letto di terra la tazza di terra il pavimento il soffitto rotto e perfino il frigobar di terra E chi è questo tuo amico è un maiale cazzo Giuliano mi spiace dirtelo ma il tuo party fa proprio cagare Io me ne vado E pensare che ho fatto 80 chilometri per venire fino a qui Bene ragazzi il rompiscatole se n'è andato Che la festa abbia inizio Ma Giuliano che cosa è combinato il mondo cosa sono queste cose tutte storte con questi dislivelli questa staccionata tutta verde pure tu hai il collare verde tra l'altro E poi c'è una porta fatta di lana verde e un letto fatto di lana verde con una coperta che io non ho mai visto e questi slab verticali hai trovato gli slab verticali E' una sorta di strano prisma di diamante e uno scivolo d'erba che cosa sta succedendo Giuliano ma è ovviamente la carpenters mod La carpenters mod Salve a tutti blazers bentornati con una nuova mod review sul canale Oggi siamo appunto qui per recensire la carpenters mod come ci ha detto il buon Giuliano Questa è una mod che conosco da diverso tempo forse era anche in una blazecraft ma non l'ho mai utilizzata ma l'ho rivista recentemente Grazie alla nuova serie di tearless che la utilizza appunto nel suo mondo moddato Se vi può interessare la cosa e vedere anche un utilizzo pratico vi lascio il link al suo video in descrizione E appunto avendo la rivista di recente dal video di tear ho detto portiamola perché questa mod è veramente spettacolare ed effettivamente non l'avevo mai portata sul canale Che cos'è questa mod? Visto così vediamo questi blocchi strani vediamo gli mezzi slab le cose di terra verdi il diamante così Dici che cosa sta succedendo c'è di tutto in questa mod in realtà no il concetto della mod è molto semplice Aggiunge pochi ma veramente pochi blocchi e oggetti un paio di attrezzi e con questi apre a un mondo infinito di possibilità per le costruzioni Non c'è modo più rapido per spiegare questa mod se non un utilizzo pratico del suo blocco principale Vale a dire il carpenter's block Questo blocco qui che all'apparenza è una semplice griglia Formata da bastoni di legno a quanto pare E tant'è che si crafta con un pezzo di legno Circondato da bastoncini ottenendo così 5 carpenter's block Ora ne vado a piazzare uno qui e vediamo subito che cosa fa Questo blocco è un non blocco diciamo è la struttura di un blocco E sopra questo blocco noi potremo apporre qualsiasi blocco presente nel gioco di minecraft Quindi ognuno di questi blocchi lo potremo mettere sopra di esso O anche qualsiasi blocco presente in un'altra eventuale mod se ne avessimo altre installate Per esempio io voglio prendere il blocco di diamante che è il blocco più raro del gioco Se io clicco questo blocco con il tasto destro succede questo Il blocco della carpenter's mod assume la texture del blocco che io gli ho segnato Visto così può sembrare inutile però aspettate un attimo Andiamo a prendere degli attrezzi e vi faccio vedere la magia di questa mod Perché se noi prendiamo innanzitutto questi due attrezzi vale a dire il martello che si fa con tre pezzi di ferro E due carpenter's block e lo scalpello che si fa con uno e uno Possiamo iniziare a fare cose molto importanti Per esempio con il martello possiamo dare una forma particolare a questo blocco Se io per esempio martello il blocco dall'alto succede questo Il blocco diventa uno slab e così per magia abbiamo creato lo slab di diamante Cosa che non dovrebbe esistere nel gioco ma che possiamo ottenere con questo blocco E in questo modo possiamo fare lo slab di qualsiasi cosa Che sia un blocco di terra, che sia un blocco di bedrock, di lana, di legno Quello che volete voi lo potete trasformare in un mezzo blocco Rimettiamo il blocco intero Vi faccio vedere che se clicco lateralmente posso anche fare i mezzi blocchi verticali Gli elf slab verticali che sono una cosa mai implementata nel gioco Ma che penso che chiunque abbia mai costruito qualcosa Gli abbia ad un certo punto desiderati perché sarebbero veramente comodissimi E non è finita qui Dopo aver fatto gli slab se noi prendiamo lo scalpello A questo blocco possiamo dare delle texture Per esempio con la pietra abbiamo varie tipologie di blocchi di pietra derivati Abbiamo il blocco di pietra liscio che sarebbe questo Abbiamo i mattoni di pietra Abbiamo la pietra ciseled per esempio E ne abbiamo un sacco di varianti Lo scalpello ci permette di ricreare sul carpenters block queste varianti Per cui se noi andiamo a cliccare il blocco con lo scalpello Possiamo per esempio trasformare questo blocco di diamante in un blocco di diamante con la faccia di un creeper Oppure un blocco ciseled O una sorta di texture tipo colonna di quarzo se vogliamo Oppure una cosa tutta intricata che sempre è ripresa dal quarzo E così via Possiamo fare i mattoni di diamante Veramente un sacco di possibilità grazie a questo piccolo oggetto E questa cosa ragazzi la possiamo fare con qualsiasi blocco Per cui se io adesso ne prendo un altro E ci vado a mettere su un blocco random Proprio lo prendo a caso tipo questo Ok la lana bianca va bene Mettiamo giù la lana bianca Copriamo il carpenters block appunto con la lana bianca E possiamo fargli gli slab con qualsiasi texture che vogliamo noi Insomma questa mod apre ad un mondo infinito di possibilità Perché con ogni blocco possiamo creare un sacco di varianti Sia per quanto riguarda le forme Sia per quanto riguarda le texture che vengono sovrapposte La cosa si fa molto più interessante Quando iniziamo ad utilizzare quest'altro blocco Che si chiama il collapsible block Quindi il blocco collassabile della carpenters Questo blocco si crafta con 9 carpenters blocchi normali E si ottengono 9 appunto come risultato Che cosa fa quest'altro blocco? Ecco il principio è lo stesso Quindi tu lo piazzi Li metti sopra la texture che vuoi E ora lo possiamo anche modificare Con lo scalpello li possiamo apporre le stesse texture che abbiamo visto qui Quindi nulla di nuovo Ma con il martello in questo caso specifico Possiamo modellare la forma del blocco A nostro piacimento Per cui non si tratta più di soli slab Ma possiamo fare questa figata Smussare letteralmente E gli angoli del blocco Possiamo dargli la forma che vogliamo Quindi magari fare una sorta di scivolo Come ho fatto in questo caso Per esempio Quindi un blocco di questo tipo Possiamo invece Rialzare l'angolo E fare in modo che Abbia solo un angolo Una punta verso il basso E che quindi abbia questa sorta di Discesa Tra l'altro quando fai il blocco così Diventa anche Diciamo percorribile Come se fosse una scala Possiamo dargli la forma che vogliamo noi Totalmente a random Quindi fare una superficie Creata A seconda del nostro desiderio Guardate che figata E nuovamente questa cosa La puoi fare con qualsiasi blocco E in più con lo scalpello Li puoi dare La texture sovrapposta Che vuoi tu In questo caso non è visualizzata perfettamente Perché il blocco ha una forma particolare Però insomma Avete capito il processo Che cosa ci puoi fare con queste cose Per esempio Questa forma Mi fa venire in mente Una sorta di scaglie Immaginate di costruire Una megapixel art Di un drago E di metterci sopra Blocchi di questo tipo Che ricordano appunto Delle scaglie Tra l'altro Se per esempio Qui abbiamo il blocco in questo modo E ne mettiamo un altro vicino I blocchi vengono congiunti Andando a creare Allora in questo caso Ho tolto La forma diagonale Però non importa La rifacciamo tipo Subito in questo modo Tipo facciamo una cosa così Dicevo che appunto Congiungendoli Vanno a creare Una sorta di unione Quindi per esempio Questo angolo Si era unito A quest'altro E quindi si era fatta La discesa così Se ne metto un altro così Il blocco si unisce anche Da questa parte E torna a essere Un blocco normale E quindi in questo modo Possiamo fare mille combinazioni Da tutti i blocchi presenti In più quelli delle mod Se vogliamo anche Quelli delle mod Tutte le forme che vogliamo Le texture che vogliamo E già così Basterebbe per rendere Questa mod Potenzialmente finita Perché ha Veramente tantissime possibilità Ma non è finita qui Perché nella chest Abbiamo visto Ci sono Tanti altri oggetti Ognuno di questi oggetti Subisce lo stesso processo Che abbiamo visto Con quelli Per esempio Che abbiamo utilizzato Per dimostrare Il funzionamento Della mod Per cui possiamo fare Un bordello di robe Possiamo per esempio Prendere le staccionate I bottoni Questo lo abbiamo appena visto C'è addirittura Il daylight sensor Il sensore di luce di urna Che è un po' esagerato Però volendo c'è anche questo Abbiamo il vasetto La porta del garage Il gate Quindi quello delle staccionate Le botole Le scale Abbiamo La pressure plate Una sorta di chest Un blocco Che ti dà già La forma di scivolo In caso in cui Non vuoi stare A martellare Ce l'hai già di base Abbiamo le scale Già di base Per esempio Abbiamo le torce Queste cose Che sono tipo Delle piastrelle Le porte E perfino il letto Quindi adesso Andremo a vedere Le cose più importanti Le piastrelle Velocemente Vi dico che Messe giù Possono assumere Una texture Che volete Semplicemente Cliccando col martello E quindi Puoi creare Un pavimento Piastrellato In questo modo Mentre per le altre cose Appunto si tratta Di cambiare texture Per esempio Abbiamo il letto La porta Ma anche Cambiare modelli Tra l'altro Se guardate Questi oggetti Hanno tutti Dei carinissimi Modelli 3D Quindi è una cosa Veramente molto particolare Mettiamo per esempio Anche Le scale Anche le scale Sono in 3D Guardate Hanno uno spessore A differenza Di quelle di Minecraft Abbiamo perfino I vasetti Abbiamo La barriera Che tra l'altro Quando si unisce Fa questa forma Molto carina Che abbiamo visto Anche qui Insomma Adesso prendiamo Una serie di blocchi E proviamo A sovrapporli Le texture E giocarci un po' Tra l'altro Ci sono anche Altri blocchi Che sono però Solamente per la creativa Quindi non sono craftabili E che sono queste forme Aggiuntive Che non sono realizzabili Magari con Il martello Questa qui Sì in teoria Questa la puoi fare Più o meno In realtà no Non ti viene esattamente così Ma puoi fare una cosa simile Comunque sono forme Non realizzabili Col martello Tra l'altro Una cosa interessante Che se tu prendi Uno di questi blocchi E Premi shift Mentre lo tieni in mano Con la rotella Lo puoi cambiare Con le altre forme Direttamente Nell'inventario Questa cosa è molto comoda Per costruire E vi dico anche inoltre Che se voi spaccate Uno di questi blocchi Vi rende Sia il carpenter's block In questo caso Si è distrutto Perché siamo in creativa Ma vi rende anche Il blocco sovrapposto Quindi è una cosa Molto facile Da utilizzare Comunque passando Alle Diciamo alle possibilità Che abbiamo qui Abbiamo per esempio Il letto Voglio un letto di netherrack Perché io sono un blaze E voglio sentirmi a casa Quindi faccio un letto di netherrack In questo modo E con il martello Scelgo anche Un lenzuolo Che mi sconquifferi Tipo questo Che mi ricorda Le verghe di blaze Poi non so Voglio una porta Di pietra Quindi mettiamo la pietra E questa porta Li cambio anche forma Perché ce ne sono Veramente tante Abbiamo tutta la vetrata Abbiamo la porta Così chiusa Una sorta di gabbia Dei vetrini normali Abbiamo anche il pannello Che è totalmente Diciamo invisibile Pensate Questo in una montagna Vi può fare Una porta segreta Perfetta Beh con le scale È una cosa abbastanza ovvia Perché sono scale Poi guardate Le potete girare Addirittura Così Cioè le scale In questo modo In minecraft Non esistono E questa è un'altra figata Come gli slab verticali Questa sorta di chest Quindi li metti Semplicemente sopra il blocco Poi funziona come una chest Come vedete E la puoi Non la puoi cambiare Ma gli puoi sovrapporre Le texture Qui per esempio Con le scale Ho fatto una sorta di arcobaleno Le scale Vediamo Sì si possono cambiare anche esse Quindi hanno queste tre forme Che sono molto carine Poi abbiamo i vasetti Per esempio Facciamo un vasetto d'oro Che è una cosa molto preziosa E le staccionate Sono particolarmente belle Usiamo anche qui l'oro Perché voglio Una Staccionata di lusso Diciamo E le possiamo cambiare Con il martello Per ottenere Vari tipi di staccionate Per esempio Questo è molto bello Ricorda le staccionate Americane Per esempio Possiamo farne anche Una più grassoccia Diciamo di questo tipo Tipo assi di legno Verticali Oppure una Molto grande Stile Muretto di pietra Insomma Abbiamo veramente Delle possibilità Bellissime In ultimo ragazzi Dato che tutte queste Possibilità Non erano abbastanza Ci fa fare Un'altra cosa La mod Quindi prepariamoci Tutti questi Carpenter Con Questa pietra Sopra Tra l'altro Se voi Andate su un blocco Di carpenter E shiftate Vi fa in modo Di non mettere Il blocco All'interno Del carpenter Ma lo mette Adiacente Quindi è un altro Comando Che può tornare utile Però dicevamo Se noi prendiamo Questi oggetti Possiamo Sovrapporre Un'altra texture Sopra La texture Che è Un'altra texture Ancora rispetto A quella Degli scalpelli Quindi ragazzi Possiamo sovrapporre Tipo Tre texture Sullo stesso blocco Quel che Va di questa mod Una cosa Con possibilità Veramente Eterne Ma comunque Se utilizziamo Su un blocco Carpenter Il seme Delle Diciamo Delle piantine Dell'erba Otteniamo La texture Dell'erba Sopra In questo modo Dobbiamo shiftare Per farlo Se utilizziamo Il grano Texture Del grano Sopra il blocco Con questa Facciamo la texture Della neve Con il filo Mettiamo le ragnatele Attorno Con le vines Mettiamo Niente Non mi sta andando Quindi proviamo a Rifarlo Mettici le vines Mettici le vines Le vines Non funzionano più Ma in teoria Dovevano mettere Le liane Su tutto il blocco Con il funghetto Possiamo fare Non funziona Neanche questo Perché non funzionano più Comunque dovrebbe fare L'effetto micelio E infine Con la Glowstone Possiamo fare In modo che Il blocco diventi luminoso Proviamo a farlo Tipo Qui Dove c'è buio Speriamo che questo funzioni Perché Oddio Oh no Ok Ha funzionato dopo un po' Ma comunque Rendi qualsiasi blocco Luminoso Per esempio Io ci metto sull'erba E questo blocco d'erba Emette luce Il che è una figata Incredibile Quindi ragazzi Questa è la Carpenters block Vi ho fatto vedere Tutte le varie possibilità Che questa mod Riesce a dare Ovviamente Non proprio tutto Perché c'erano i blocchi Tipo Il sensore di luce Che sono cose secondarie Ma comunque Avete capito il senso Questa mod Vi dà la possibilità Di costruire I modi Mai visti prima E penso che all'interno Di qualsiasi mod pack Per costruire Quindi pensato Per buildare Con le mod Sia indispensabile Questa mod E sia probabilmente La più importante Insieme alla bibliocraft Per gli interni Perché è veramente Una cosa epica Per questo motivo Ragazzi Vi chiedo di sostenermi Con un like Sarebbe carino Arrivare ai 9000 Come sempre Vi invito Assolutamente A scaricare la mod E a provarla Perché è un qualcosa Di bellissimo E dà veramente Molte soddisfazioni Quando costruisci La versione 1.7.10 Trovate il download In descrizione Ovviamente Per il resto Ragazzi Io vi saluto E vi rimando A domenica prossima Con un'altra mod review Un saluto da Iron Blaze Ciao